ciao ragazzi e ragazzi benvenuti e bentornati nel mio canale oggi vi faccio un castiglio la venezuelana iniziamo quindi è un pentolino mettiamo 3 cucchiai di zucchero 23 copriamo lo zucchero con un po d'acqua più o meno mezzo bicchieri d'acqua iniziamo a mescolare pronto il caramello lo versiamo nello stampo per il chesillo nello stampo lo giriamo un po per le pareti questo stampo dei biscotti va benissimo lasciamo il caramello riposare qua mentre preparo la mischia per il chesilio cosa ci serve scusate ci serve 6 uova un barattolo di latte condensato e la stessa quantità di latte mettiamo nel frullatore il 6 uova e grazie e un cucchiaino di vaniglia frulliamo prendiamo lo stampo precedente col caramello versiamo l'impasto chiudiamo prendiamo una pentola con l'acqua dentro un pochino d'acqua dentro mettiamo lo stampo dentro e lo portiamo al forno a bagno maria per almeno 30 35 minuti bene ragazzi il chesilio è pronto tiriamo fuori dal suo stampo vediamo com'è venuto e Grazie a tutti. Assaggiamo. Buono ragazzi, buono. Io intanto vi saluto, iscrivetevi e al prossimo video. Ciao!